So this is Christmas Siamo tutti consapevoli di quanto sia difficile vivere serenamente in questo periodo dell'anno considerate le conseguenze che questa emergenza sanitaria ha avuto sulla nostra quotidianità Ma siamo certi che alla fine di questo lungo periodo saremo capaci di apprezzare di più le piccole cose Quelle che molto spesso tendevamo a dare per scontate ma che in realtà hanno un valore preziosissimo Un gesto di generosità, un sorriso contagioso, uno sguardo sincero e un abbraccio affettuoso L'avore per questo santo Natale è di trovare il coraggio di sorridere e non arrendersi mai Di non vedere il mondo solo nero ma di mille sfumatori diverse Di credere nel domani e nell'amore delle persone che ci circondano Di pensare come diceva il grande cantante inglese John Lennon Che andrà tutto bene alla fine e se non andrà bene non è la fine Abbiate piede e speranza perché quando arriverà il momento tanto desiderato Potremmo dire di aver vissuto davvero Di essere caduti ma di essere anche stati capaci di rialzarci Insieme Buon Natale a tutti